Ehi, piantala di fare il clown. Samira, guarda chi c'è. Digli buongiorno. Buongiorno. Entra, fuori fa freddo. Un televisore. Sì. E dove l'hai trovata? Oh, beh... Hai detto a Eddie cosa puoi fare da grande? La veterinaria. Solo che papà... Non stiamo parlando di quello che vuoi, ma di quello che puoi fare. D'accordo? Charlie Chaplin, il re della risata, se n'è andato in punta di piedi a 88 anni. Mi è venuta una bella idea. Sentiamo. Un'idea che cambierà la tua vita. E quella della tua famiglia. Con tua figlia che farà... quello che potrà. Non quello che vorrà. Sputa il rospo. Chiederemo dei soldi a un amico. Sai che hanno separito Chaplin ieri. Ma che ti è successo là dentro? Stai scherzando? Io sono il signor Monet. Come il pittore, ma con più n. Non avresti dovuto uscire così al telefono. Non è credibile. Sembravi spaventato. Questo non è uno scherzo. Charlie Chaplin è nelle nostre mani. Le dico che è morto. Siamo in possesso della sua bara. Senta, mi passi il signor Chaplin, per favore. Bravo, signor Sottuttoio. Il cervellone. Non avrei dovuto farmi coinvolgere. Mi trovi divertente? Andy! Usciremo da questa vicenda a testa alta. Hai capito? A testa alta. E se non fai esattamente quello che ti dico, io ti ammazzo! Hai capito? Effettivamente, si può dire. Beh, sì, questo è un altro stile. E se non fai esattamente quello che ti dico,